Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, giovedì 18 aprile, 18 aprile, siamo già oltre la metà di aprile, è pazzesco, è quando ci si diverte il tempo vola. E allora buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state, cosa mi raccontate, come va? 3317853555 è il nostro numero di whatsapp, a cui potete scriverci, raccontarci un po' tutto quello che avete voglia di condividere insieme a noi questa mattinata qui su Cristal Radio Milano 96.2 FM, DAB+, applicazione per iOS e Android e poi anche il sito internet cristalradio.it dove potete ascoltare la diretta e poi invece goodmorning.milano.it, il sito internet su cui potete riascoltare tutto quello che volete, rivedere i nostri ospiti, rivedere il nostro podcast, riascoltarci anche con il link a Spotify, insomma tutto quello che vi siete persi nelle giornate precedenti o che magari ci state riascoltando magari in podcast proprio anche in questo istante. Allora un saluto a chi ci ascolterà in podcast durante la giornata, che sia una buona giornata anche per voi, ma che sia assoluto una buona giornata per tutti quanti noi che qui alle 7.10 ascoltiamo Cristal Radio Milano e iniziamo una giornata insieme all'insegna appunto dell'energia che ci serve per affrontare questa innesima giornata di Salone del Mobile a Milano, la settimana campale questa, c'è poco da fare. Si parte con la musica, Marco Mengoni che ci racconta un po' quello che è successo questa sera, diceva no, ma stasera, cosa dice? Marco, ma stasera cosa? Raccontaci pure, Marco Mengoni. Marco Mengoni, ma stasera alle 8.14 qui su Cristal Radio, ma prima di andare avanti è arrivato il nostro WhatsApp del mattino di Alberto che però oggi dobbiamo introdurre così. Buongiorno Fabio, questa mattina sono ancora a letto, con la febbre. Un saluto a tutti i cristallini. Alberto siamo con te. Alberto, che tutte le mattine ci scriveva, tutte le mattine ci raccontava la sua vita, tutte le mattine ci dava l'energia per iniziare una mattinata insieme. Alberto, lo ricordiamo così. Ebbene sì, perché la febbre a noi uomini fa questo effetto, signori, lo sappiamo benissimo. A me dispiace tantissimo Alberto con la febbre. Mamma mia, no, no, Alberto, siamo davvero solidali con te in questo momento. Lo sapete, settimana scorsa abbiamo, anzi, ho perso le condizioni del tempo, sia la settimana scorsa o quella prima ancora, che non siamo andati in Londra un giorno, perché sono stato io con la febbre. Vi assicuro che il mood della giornata è stato questo. Così. Vedevo Carli passare in fondo all'orizzonte, con mantelli neri venirmi a prendere. Questo è stato praticamente il mood della giornata. È quello, sì. Quando noi abbiamo la febbre funziona così. È questo che succede. E quindi un grande abbraccio e una pronta guarigione allora ad Alberto, che appunto ci ha scritto questo messaggio. Nonostante la febbre, vedete, però riesce anche a scriverci un messaggio. Grazie Alberto, è il messaggio che apprezziamo di più di questa mattinata, di questa settimana. Ma so che molti di voi in realtà non sono proprio in formissima. È la congettura delle cose, no? D'una parte è la temperatura che sale, scende, sale, scende, ci frega. Dall'altra i pollini, che sono praticamente ovunque. Ovunque vi girate, tac, c'è il polline che te dice, tac, eccomi qua. Ciao, sono il polline e quindi ogni volta ci frega. E quindi, insomma, così che funziona. E non è semplice, soprattutto poi, da gestire per noi maschietti, che effettivamente ogni tanto, appena abbiamo due linee di febbre, non oso chiedere quanto ha di febbre, perché io già a 37.2 ero al di là. Cioè, proprio ero nel mondo dei paralleli, cioè proprio nel metaverso di quelli malati. Cioè, proprio una roba che non riesci neanche a concepire dove stai andando e cosa stai facendo. Comunque, vabbè, allora, pronta guarigione e auguri a tutti coloro che sono in questo momento a casa. Tanti, tanti, tanti con la febbre. Febbre che è avvenuta a tutti quelli che hanno letto anche le indicazioni di area B. Quando diceva appunto il Comune che da ottobre 2024 avrebbe ridotto l'ingresso, riguardava appunto i divieti nuovi, riguardavano l'ingresso in area B, di quattro tempi, delle moto a quattro tempi, benzina, Euro 0 ed Euro 1. Sembrerebbe che il Comune ci stia ripensando. Sembrerebbe, eh. Adesso poi vediamo cosa dicono bene. Milano Today in titola, cioè titola, scusate, Stop alle moto in area B. Il Comune di Milano ci sta ripensando. Le dichiarazioni del Senteco Sala. In teoria lo stop scatterebbe ottobre 2024 e riguarderebbe le moto a quattro tempi, Euro 0 ed Euro 1, nonché a due tempi, Euro 2. Vedremo se servirà qualcosa a mettere questi divieti o se invece il Comune ci ripenserà. Sicuramente il traffico invece in città è sempre bello attivo e lo andiamo a capire e scoprire meglio grazie agli amici di Luce Verde che ci danno la fotografia, la situazione in questo istante. 883 nord, sud, ovest, est. Le coordinate che dovete seguire oggi se volete girare nel traffico. Abbiamo sentito anche da Luce Verde, cioè andate un po'... cioè se dovete andare a sud andate verso nord, così almeno riuscite a girare. Se dovete andare a est andate verso ovest, così potete girare. Cioè è tutto un po' così la città, no? 3317853555 i whatsapp arrivano copiosi questa mattina dopo quello febbricitante di Alberto arrivano altri whatsapp. Leggiamo Buongiorno da quella di Bergamo. Io non ho la febbre ma sono stanchissima. Mi sono svegliata in nottata e ho perso un po' di ore di sonno. Ah, che brutta roba quella roba lì quando ti svegli nel mezzo alla notte. Magari quelle 1-2 ore ma vanno via così, in un lampo che non riesci più a riprendere sonno con le robe lì, ma vabbè. Io quando ho la febbre, se proprio non posso andare al lavoro, di solito resto a casa a farmi paranoie su come il mondo possa ancora girare nonostante io non sia andata al lavoro. Benissimo. Il nostro pubblico è sempre un pubblico tranquillo che vive bene le sue situazioni, devo dire. La prende bene, come si dice in questo caso, la vive bene. Ebbene sì, dobbiamo farci questo questo esame di coscienza per cui sì, il mondo, pensate, gira anche nonostante magari la giornata in cui noi rimaniamo ai bordi della vita e quindi rimaniamo magari anche a casa con febbre o cose del genere. Gira quasi tutto tranne il morning show che invece avete visto se c'era la febbre qua tac, non si è andata in onda quindi attenzione, la responsabilità è alta, devo stare bene anche per voi. Io non posso prendermi la febbre, raffreddore, ho questo raffreddore da allergia che l'ho sentito, è una settimana che ansimo praticamente, faccio veramente fatica, poi qui in studio è anche un po' complicato perché insomma l'aria non è che gira proprio bene e non so se è un bene o un male perché è buono che non entrano magari i pollini però il brutto è che quei pochi pollini che entrano non escono più quindi insomma non è proprio semplicissima la situazione e quindi io vi chiedo scusa se questa settimana ogni tanto sembra un po' così un po' nasale nel mio racconto nella mia lettura dei giornali giornali che appunto ho qui davanti adesso poi andremo a leggere stavo controllando sul sito TM se questa mattina va tutto bene e sembrerebbe che al momento dal sito TM tutte le metropolitane regolari non ci dovrebbero essere grandi problemi vi ricordo se dovete andare in zona Navigli Porta Genova giù di lì attenzione perché tra che c'è metà zona chiusa per via del Salone Immobile poi il tram 2 è deviato perché da General Cantore fino a Porta Genova ci sono delle tratte interrotte poi anche fino a Negrelli per dei lavori in corso quindi insomma non è così semplice muoversi da quella parte lì io direi anche proprio se non avete bisogno per forza di andarci potete anche evitare non so come dire questa settimana dovete andare lì con tutte le settimane dell'anno che ci avete dovete andare questa settimana in Porta Genova andateci un'altra volta oppure usate la metropolitana che è meglio perché i tram non sono proprio messi benissimo in questo momento nella zona soprattutto appunto di Porta Genova e Negrelli insomma un po' di problemi dovuti appunto da una parte al Salone Mobile e dall'altra ai lavori in corso che ci sono queste sono le comunicazioni che arrivano dal sito di ATM ripeto metropolitane regolari in questo momento su tutta la linea nonostante ieri invece è successo un po' di patatrack sulla M2 dopo ve la leggo bene perché Milano Today ne ha fatto un articolo ieri pomeriggio appunto stop della M2 tra le fermate di Cascina Antonietta e Gessate sapete qual è la notizia? che ho scoperto esistere la fermata di Cascina Antonietta l'avevo completamente dimenticata dal rinco delle fermate che esistono da quella parte lì proprio zero non mi credo minimamente che esistesse una fermata che si chiama Cascina Antonietta sulla M2 ed esiste perché lo dice ATM quindi esiste davvero pensate prima di Gessate esiste una parte la M2 arriva praticamente fino a Bergamo va bene andiamo avanti con la musica The Pash Mode Nicola Fabi e Max Gazze con Vento d'Estate alle 7.35 benvenuti nella seconda mezz'ora di trasmissione qui in diretta su Crystal Radio Milano Vento d'Estate che insomma l'altro ieri ha fatto grandi danni oltretutto da queste parti anche soprattutto nella parte nord della città insomma un vento che ha spazzato via un po' di inquinamento quindi da quella parte va bene o male per fortuna però dall'altra insomma ha fatto abbastanza danni anche a cose e persone quindi insomma e soprattutto abbiamo scoperto che l'estate non è ancora arrivata perché sono scese ancora le temperature sono scese ancora ci sono solo in questo momento siamo sui 10 gradi più o meno quindi insomma a confronto ai 20 e passa qualche giorno fa si fanno sentire ed è anche forse questo il motivo per cui molti di voi sono a casa con mal di gola raffreddore febbre e cose simili 33178535555 arriva un whatsapp di Erika che dice buongiorno Fabio dacci più Max Gazzè è vero è vero lo mettiamo troppo poco quindi dovremmo mettere di più ma anche Niccolo Fabio effettivamente dovremmo scoprirli riscoprirli un po' insieme perché davvero sono grandi musicisti che troppo spesso ci dimentichiamo e quindi mi prometto di mettere più Max Gazzè d'ora in avanti ogni tanto lo mettiamo così che si possa questo fa capire l'età media del nostro pubblico fa capire che non è l'unica che ha risultato nel sentire Vinto di estate di Niccolo Fabio con Gazzè fa capire insomma tutta gente che negli anni 90 ascoltava il Walkman per intenderci più o meno quella roba lì più o meno quella roba lì piccolo aneddoto personale su Max Gazzè io l'ho sempre seguito mi è sempre piaciuto pensate la prima volta che l'ho visto in concerto era ancora il bassista di Daniele Silvestri perché lui nasce inizia appunto come musicista come bassista ed era il bassista ufficiale della band di Daniele Silvestri in un concerto in un concerto qui all'ex Palatrusardi poi Palavobis poi Palanum Niccolo più che cosa comunque quello che c'è lì a Lampugniano per intenderci Max Gazzè che poi fa uscire un disco La favola di Adamo e Deva bellissimo disco in cui è presente una canzone che si chiama Cara Valentina ok ecco di quella canzone io mi feci una cassetta da 90 minuti lato A lato B praticamente con quella canzone in loop e ammorbavo tutti i miei amici al parchetto al parco soprattutto al parco di tren andavamo a giocare a pallone a basket così e con la radio messa lì e ammorbavo i miei amici in loop questa canzone ogni volta spariva la cassetta ogni volta mi facevano sparire la cassetta io stoico tornavo a casa la rifacevo poi la rimettevo le settimane dopo sono andati così qualche mese dopodiché a un certo punto è scomparsa anche la radio mi hanno tolto la radio dalle mani e mi hanno detto basta tu non puoi più decidere che musica mettere e ora invece mi rifaccio in una radio ecco vedete vedete a togliere i giocattoli ai bambini cosa succede poi che vi dovete sorbire Fabio Ranfi tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui in diretta su Crystal Radio vabbè forse effettivamente avevo un po' esagerato con Cara Valentina però tanto bello Cara Valentina il tempo non fa il suo dovere ma a volte peggiora le cose per esempio non è vero è arrivato così bellissima poi un giorno un giorno la mettiamo allora un giorno la mettiamo prometto che adesso dopo questo strazio di canzone che vi ho fatto in diretta qui alle 7 e 39 minuti su Crystal Radio mandiamo invece della musica quella seria e quella vera ok promesso anzi mettete le cinture di sicurezza ovunque voi siate anche se siete sul divano di casa anche se siete in bagno a farvi lo scrub al viso perché in questo momento parte la musica quella che quella che vi dà la carica quella che vi fa muovere tutti i muscoli quella che vi fa uscire urlando sì oggi sarà la mia giornata ecco a voi gli ACDC con I Way To Hell Rock and Roll Never Die ecco a voi ACDC I Way To Hell quando vi dico che vi do l'energia non è che ve lo dico a caso so che avete chi è che ha spagato lo specchio dai ditemi chi è che ha lanciato la spazzola contro lo specchio sulla solo e adesso dobbiamo 7, 14, 21 anni di sfiga perché dobbiamo rifare lo specchio del bagno di qualcuno mi raccomando con parsimonia cioè quando vi fate prendere che prendete iniziate a cantare lanciate di qua però sempre con parsimonia perché dopo sennò non possiamo pagarvi danni noi della radio cioè non possiamo so che è istigazione la nostra mettendo questa musica però insomma sta a voi sta anche a voi allora vi dico questo Cascina Gobba se la conoscono tutti chi è che non la conosce va bene Cassina De Pecchi già però si dai si conosce Cascina Burrona che non so neanche dirlo quindi anzi scusa Elisa corri qua un secondo per favore mi servi qua un attimo subito in diretta veloce corri corri Elisa corri devi dire questa parola perché io non riesco a dirla che tutto perde leggimi qua 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 al mio microfono allora leggimi bene come si chiama questa fermata qui Cascina Burrona qua qua al microfono Cascina Burrona Cascina Burrona non riesco a dirlo io ok grazie mille c'è un problema ragazzi non è che potete fare un po' di shaming perché non c'ho l'errore comunque poi questa la conosce le trate io non me la ricollavo minimamente non mi ricollavo minimamente che c'era sta roba qua poi ci sono due ville anche Villa Fiorita già più famosa Villa Pompea molto meno famosa ma molto più che dal fianco a fare battute su qualsiasi cosa comunque e poi Cascina Antonietta che è la fermata appunto in cui ieri la M2 si fermava prima di arrivare a Gessate io vi giuro non avevo minimamente idea di esistesse questa fermata quindi chiedo scusa agli Antoniettiani coloro che abitano a Cascina Antonietta perché non sapevo dell'esistenza di questa fermata comunque ieri nel pomeriggio e andiamo a leggere appunto da Milano c'è tutto questo casino per arrivare a questo e vi dico solo questo tutto questo casino per arrivare a dire che ieri pomeriggio dopo le 15.30 stop ai treni della M2 verso Gessate alla fermata di Cascina Antonietta in realtà poi leggendo anche dei commenti su X che adesso ovviamente ho chiuso perché ho sbagliato tutto no ok leggendo anche dei commenti su X in realtà a un certo punto i treni si sono fermati direttamente a Gorgonzola non era neanche Cascina Antonietta poi però sono ripartiti insomma molto lenta la ripartenza che è avvenuta in orario più un paio d'ore è rimasto fermo tutto quanto comunque poi per fortuna è ripartito tutto ma appunto rallentamenti su tutta l'intera linea cioè rallentamenti che sono ripercossi anche dalla parte di Assago Forum pensate che dalla parte opposta rispetto al tratto appunto che era fermo ed era stato fermato fermato appunto che i convogli che dovevano andare verso Gessate si fermavano invece a Cascina Antonietta e poi c'era un autobus sostitutivo che vanno da Cascina Antonietta fino alla punto a Capoglini di Gessate ok il pronto intervento comunque ha lavorato velocemente per riparare il guasto a Gessate e entro un paio d'ore tutto è tornato sotto sotto controllo e quindi la Metropolitana 2 è ritornata a funzionare Metropolitana 2 che sappiamo spesso e volentieri avere un po' di problemi la stanno rimodernando e anche questo porta a problemi perché per rimodernarla bisogna fermarla bisogna fermare tutto tenete presente che è veramente una linea ormai che ha la sua età e soprattutto che veramente va fuori tanto dalla città ed è tanto tanto utilizzata anche se dagli ultimi dati abbiamo scoperto che ancora comunque la M1 è quella più utilizzata in assoluto più del 50% se mi ricordo male di coloro che utilizzano la Metropolitana milanese usano la M1 quindi ancora comunque la linea principale è quella vabbè ci sta passa dai punti più importanti del centro sono avuto poi i turisti che non la utilizzano molto di più rispetto a noi altri e a noi altri pendolari che vanno avanti e indietro nella città andiamo avanti con la musica adesso sono i Comacose milanese grande milanese grandi Comacose con post concerto 746 minuti good morning Milano e questi erano i Comacose con post concerto alle 7.50 minuti qui su Crystal Radio sempre in diretta per raccontarvi un po' tutto quello che succede qui a Milano in città metropolitana a città metropolitana l'ho detta l'ho detta l'ho detta perché è stata tirata in ballo poveretti e io a me in città metropolitana mi sono anche simpatici e mi dispiace perché vengono tirati in ballo solo esclusivamente quando ci sono le rotture di scatole che poveri Cristi non c'hanno soldi si sono ritrovati così senza la provincia a un certo punto da domani siete città metropolitana cosa scusi con i consiglieri che sono eletti in secondo grado da se stessi che vanno lì il sindaco che era il presidente della città metropolitana che però è il sindaco di Milano e quindi non riesce a fare bene il suo lavoro perché non può farlo quindi a me dispiace devo dire la verità per la città metropolitana che però viene presa in ballo soprattutto durante le occupazioni scolastiche e allora andiamo a leggere da Corriere della Sera Milano Milano occupato il liceo Leonardo zona palazzo di giustizia per intenderci gli studenti dicono scarsa manutenzione allagamenti e crolli la miseria vogliamo spazi sicuri e devo dire che dalle foto che ci sono sul Corriere della Sera Milano effettivamente non è che sembra proprio un bellissimo posto comunque la protesta contro città metropolitana per gli interventi carenti e superficiali così la vita all'interno della scuola è indecorosa e intollerabile e quindi continuano le proteste appunto leggiamo da Corriere della Sera Milano dei licei milanesi non si ferma il movimento milanesi di agitazione studentesca che ha coinvolto una dozzina di scuole superiori dalla fine di gennaio ad oggi la staffetta delle occupazioni fa ora tappa al liceo Leonardo mercoledì mattina appunto gli studenti hanno deciso di scioperare ed occupare nel documento nel documento rivendicano nel documento in cui c'è un attacco diretto appunto alla città metropolitana già in passato accusata da questi alunni di questo liceo per la carenza di interventi di potenzione dicono questa azione di protesta ci è sembrata l'unica soluzione quindi necessaria per la situazione che viviamo nella nostra scuola e al di fuori di essa l'edificio nel quale è insito l'edificio del liceo Leonardo ha da troppo tempo problemi che ci rendono la vita all'interno della scuola indecorosa ed intollerabile così appunto scrivono i promotori della protesta problemi tanti spesso gravi allagamenti diffusi tra corridoi e classi contro soffitti crollanti interi bagni o chiusi per mancanza di mutazione delle tubature o in uno stato al limite del sopportabile e comunque indecoroso ed infine infiltrazioni d'acqua ovunque queste appunto alcune delle cose che hanno detto appunto gli studenti che hanno occupato la dirigente scolastica Luisa Francesca Amantia è comunque sempre aperta al dialogo anche su questi temi però dice giusto la manutenzione non fa capo a noi in conclusione dice la nostra azione per quanto forte insomma deve comunque rimanere e deve denunciare questa parte dicono appunto gli studenti città metropolitana tirata in vallo città metropolitana che dice comunque che sono stati spesi dei soldi negli anni scorsi per mettere a posto questa scuola ma evidentemente insomma mi viene da dire cara città metropolitana tutto questo non basta forse sarebbe bello vedervi al fianco dei studenti scendere in piazza e dire sapete che c'è avete ragione ma noi abbiamo le mani legate non possiamo farcela perché non abbiamo soldi è interessante capire come mai in tutto questo marasma di soldi che girano da una parte all'altra delle varie istituzioni poi la città metropolitana invece ne venga sempre privata nonostante però tenga in capo tantissima responsabilità tra cui appunto l'edilizia scolastica lo sport insomma sappiamo tantissime anche altre situazioni comunque adesso noi ci fermiamo per una piccolissima pausa giornale radio e poi torniamo qui con i nostri ospiti del giovedì a raccontarvi tante tante belle cose Eros Ramazzotti con Terra Promessa il nostro Crystal History delle 8 invece sono già alle 8.06 pensate già arrivati alle 8.06 di oggi giovedì 18 aprile e il giovedì si parla ovviamente di teatro qui a Good Morning Milano insieme a Tamara Malleo buongiorno Tamara buongiorno Fabio buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano allora l'abitudine del teatro come insomma l'hai soprannominata tu mi piace molto continua tre appuntamenti anche questa settimana e iniziamo subito con La Barca che è un teatro che si trova in zona sud di Milano metropolitana Verde Sant'Agostino Sant'Ambrogio quindi quelle fermate diciamo così della metropolitana verde la barca è un diciamo così un piccolo spazio teatrale che dà diciamo voce alle giovani compagnie in questo caso abbiamo la compagnia Tristezza Ensemble che porta ALDST Project significa al limite dello sputtanamento totale protagonista è Viola Marietti che è una giovane attrice che si sta fermando nel panorama del teatro italiano la regia è di Matteo Gatt di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa in questo momento è in scena il suo Gramsci Gay e la regia appunto è di Matteo Gatt e di Viola Marietti e la drammaturgia invece di Gabriele leggerezza albanese allora al centro c'è la storia di questa ragazza tra una ragazza che ha un'età tra i 20 e 30 anni con tutto quello che le succede nella vita diciamo così in una vita molto complessa molto travagliata incasinata lei sa di essere una persona molto incasinata immatura che tenta di sopravvivere diciamo al disastro che le ruota intorno tra famiglia relazioni e la cosa che mi è piaciuta di questo monologo che in realtà è un po' stand up è un po' invece un percorso all'interno di un diciamo così di un di un disvelamento col pubblico no? perché a volte ci si rende conto di vivere in un tunnel di disagio e condividerlo in qualche modo grazie al teatro può essere un modo per diciamo così per vedere il riflesso nell'altro qualcosa che è dentro di noi e che in qualche modo non riusciamo a esprimere a parole appunto viola marietti invece questa questa cosa l'ha fatta l'ha espressa a parole attraverso chiaramente un linguaggio teatrale divertente ironico a tratti surreale e ci porta appunto in un mondo che è molto legato a un mondo giovane che mostra quanto a volte è difficile relazionarsi con una realtà che non ci appartiene ma che in realtà dobbiamo con cui dobbiamo convivere una realtà che riguarda sia gli affetti familiari che gli affetti personali che una realtà che ci impone comunque delle insomma delle scelte di vita che a volte non siamo pronti a fare quindi la barca sabato e sabato 19 scusate sabato 20 e domenica 21 metropolitana verde fermata a Sant'Agostino o Sant'Ambrogio quindi quella zona ok allora poi ci spostiamo e andiamo in un teatro che tu conosci molto bene che è il teatro della cooperativa che in questo caso accoglie in questo fine settimana cioè domani sabato e domenica uno spettacolo meraviglioso che si chiama Animali Domestici è uno spettacolo di Antonio Mingarelli con in scena due interpreti strepitosi che sono Cristi Allarosa di cui abbiamo già parlato nelle settimane scorse e Alice Raffelli allora al centro c'è un fatto di cronaca perché c'è una storia che tutti noi conosciamo che è andata alla ribalta il 3 febbraio del 2018 a Macerata un giovane Luca Traini spara alcuni colpi di pistola nel centro città da una vettura in movimento e vengono feriti sei immigrati lui dopo aver sparato scende dalla macchina con il tricolore legato al collo col saluto romano e il grido viva l'Italia quindi si parte da questo fatto di cronaca che però non è un fatto circostanziale in realtà lo spettacolo ruota intorno alla storia di questo ragazzo Luca che viene diciamo seguito prima che compia questo fatto e parallelamente si sviluppa la storia di una ragazza che frequenta la scuola davanti alla quale si svolge questo fatto e si mettono a confronto due umanità due umanità disperate due umanità che vivono una solitudine avvolta in un silenzio rumorosissimo e che questo rumore li porta anche loro quindi ritorna questa parola li porta in un tunnel di apatia che si sviluppa poi in forme diverse in una violenza estrema in un'apatia che viene scossa soltanto dalla violenza quindi vengono messe a confronto in maniera molto interessante queste due realtà parallelamente e in qualche modo il centro del racconto non è tanto appunto il fatto di cronaca ma quanto quell'umanità può in quel silenzio raggiungere dei livelli di violenza assoluta e quindi è uno spettacolo davvero molto intenso molto forte però sicuramente anche per ragazzi e ragazze molto giovani secondo me è una visione da condividere siamo al teatro della cooperativa zona di guarda e quindi anche questa diciamo così zona di Milano viene coperta siamo partiti da Navigli per anzi dalla zona Sant'Ambrogio Sant'Agostino per arrivare invece in zona di guarda ci spostiamo ancora e andiamo in questo caso invece in zona piazza Tricolore quindi si aggiunge in questo caso anche con la metropolitana adesso blu quindi avete anche bravissima anche indicazioni comode anche la nuova metropolitana così abbiamo tutti i teatri raggiungibili con la metropolitana stiamo parlando del teatro Menotti allora in questo caso stiamo parlando di uno spettacolo secondo me anche questo da vedere perché stiamo parlando di il allora se no se no allora perché c'è questo doppio titolo che racchiude appunto il senso di questo spettacolo la protagonista è Lucia Mascino un'attrice da vedere sempre perché porta in scena delle un modo di raccontare unico la regista è Serena Sinigaglia che conosciamo tutti come anima di Atir Teatro per tantissimo tempo in questo momento è direttrice artistica del Carcano insieme a Lella Costa e la produzione è una produzione del Carcano al centro c'è la storia di questa psicoterapeuta che è chiamata da un tribunale inglese a valutare una madre che ha consentito alla figlia di fare un intervento al seno per ingrandirlo quindi in questo caso è un monologo provocatorio che riflette sul senso della bellezza su ciò che intendiamo come sinonimo di bellezza ma al tempo stesso si parla di una donna che affronta le sue sofferenze nei confronti di una relazione madre figlia di ciò che la società richiede ad una donna all'interno del suo percorso ma anche di ciò che è la responsabilità di una madre nei confronti di una figlia anche rispetto a quello che la società impone come valore rispetto alla figura della donna lo so che siamo appunto di prima mattina e i temi in questo caso sono sempre abbastanza insomma importanti però cerchiamo di fare sempre dei viaggi che portino sempre dei racconti vari però secondo me questi temi sono temi fondamentali e il teatro appunto permette di fare dei viaggi importanti anche attraverso temi di un certo peso diciamo così che però il teatro rende molto diciamo così che possono essere attraversati senza essere travolti da questi temi ma sostenuti da tutti gli strumenti che il teatro ci dà quindi in questo caso ricordiamo lo teatro Menotti si raggiunge anche con molti mezzi di superficie ve lo ricordo perché c'è la 61 c'è la 54 quindi si raggiunge c'è anche il passante ferroviario che non ce lo dimentichiamo tra Porta Venezia e Dateo quindi è raggiungibilissimo il teatro Menotti con una programmazione che anche nelle prossime settimane si fa molto interessante quindi ne riparleremo il nostro viaggio per oggi è finito il tuo no bisogna fare veramente dovremmo fare un tour col tram che passa attraverso tu che fai ti racconti i teatri che incontriamo lungo la strada dobbiamo pensarci sarebbe molto bello perché in realtà secondo me è un bel viaggio col tram ma poi secondo me si raggiungono anche molti molti spazi poi appunto c'è anche da dire che io tanti spazi non li racconto perché magari non li conosco e quindi cerchiamo sempre ogni volta di aggiungerne qualcuno quindi lo cercheremo anche per voi grazie appunto a Tamara e a tutti i suoi viaggi che ci fa fare attraverso questa città attraverso appunto le eccellenze del teatro che avvengono e ci sono appunto a Milano Tamara prima di salutarci ricordaci dove possiamo trovarti e seguirti grazie Fabio come sempre allora potete seguirci per altri racconti di teatro il venerdì a Teatromania sul canale Milanao 191 del Digitale Terrestre in streaming su www.mediapason.it slash Milanao o il lunedì sera alle 23.30 su Antenna 3 canale 11 e lì vengono anche a trovarti spesso volentieri proprio gli attori i registi anche domani avremo degli ospiti che insomma verranno in studio a trovarci a condividere delle storie che partono dal teatro ma vanno anche in altri mondi tipo podcast eccetera quindi chi viene chi viene chi viene chi viene chi viene domani dai domani allora domani guarda parleremo di Nanni Svampa che secondo me appunto la tua trasmissione ne ha parlato e ne parla perché comunque è un personaggio per Milano molto importante e si farà la prossima settimana una giornata al teatro Fopuccini per ricordarlo attraverso degli studiosi di Nanni Svampa ma anche degli artisti che ripropongono appunto le opere di Nanni Svampa e quindi ci sarà tutta una giornata in cui chiunque vorrà potrà partecipare potrà rivivere insomma tutto il percorso di Nanni Svampa poi parleremo di un podcast che si chiama Case da Ricchi di un ragazzo un attore che io sto seguendo che è Daniele Turconi poi parleremo di Marianne Esposito che è l'anima di Teatring che è una diciamo una compagnia che si pone come obiettivo quello di far diventare il teatro un punto di riferimento per la comunità diciamo così cittadina e quindi attraverso le sue attività dai bambini alle bambine agli adulti fa tutte delle attività più degli spettacoli che appunto condivide con il pubblico e poi parleremo anche noi di animali domestici perché appunto è uno spettacolo in cui io credo moltissimo e che sostengo appena posso perché secondo me ha un valore davvero molto profondo anche se è complesso perché appunto fa un po' paura visto che si parla di violenza si parla di morte si parla insomma di situazioni che possono far paura ma devo dirti che Antonio Mingarelli riesce a portarci attraverso le parole di Caroline Baglioni che è l'autrice del testo in un mondo con grande delicatezza con grande attenzione con grande cura quindi tutto questo appunto lo potete seguire grazie a Tamara Malleo cercate anche sui social Tamara Malleo anche Milanao lo trovate quindi potete seguire tutto quello che fate grazie mille a te Tamara noi ci vediamo in realtà sabato perché sarai anche tu presente ai Milano Non Profit Awards in qualità di ospite che salirà sul palco a premiare una categoria non mi ricordo quale però in senso sarai lì a leggere la busta The Winner Is e anzi l'emozione sono io emozionata altro che premiati ricordiamo appunto che sabato mattina comunque in diretta su Milano All News potete vedere la giornata finale appunto le premiazioni dei Milano Non Profit Awards ricordiamo anche Crystal Radio tra i media partner e anzi saranno anche presenti alcune esponenti di Crystal Radio che saliranno anche loro sul palco a premiare penso con te Tamara tra parentesi non mi ricordo male se non mi ricordo male fate la combo infatti benissimo grazie mille Tamara allora a sabato e poi invece ci risentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo qua ancora con l'abitudine del teatro a te grazie mille Tamara Malleo andiamo avanti con la musica quella che spacca così dicono ogni tanto non lo so però sa di fatto che in Nirvana sicuramente sono quelli che spaccano in Nirvana con Smells Like Teen Spirit ecco lo sapevo gli specchi che non avevamo rotto con gli ACDC li avete spaccati adesso lo sono sicuro e vabbè vi siete fatti prendere dall'euforia dei Nirvana così dalla forza della chitarra elettrica distorta che come si fa a resistere non si può è impossibile quindi vi posso capire e vabbè vi do ragione effettivamente non si poteva fare nient'altro che saltare questa canzone uguale Pogo per me Pogo ho lasciato giù tanti di quelle paia di occhiali durante i vari concerti in giro serate al Rainbow Club che c'era ad esempio in Forza Armata dove si metteva su musica del genere e occhiali che volavano pam via proprio dritti così lunedì dover andare dall'ottico a rifarli perché si erano scassati per la felicità di mamma e papà comunque l'energia di Nirvana spero vi sia arrivata forte e chiara perché adesso noi ci fermiamo ancora un pochino un po' di musica ma poi dopo la piccola pausa pubblicitaria di nuovo qui con i nostri ospiti parliamo di Municipio 4 lo facciamo con consigliere municipale Davide Borghi del Municipio 4 lo facciamo appunto in diretta qui su Crystal Radio alle otto e mezza più o meno ultima mezz'ora di trasmissione e poi dopo lasciamo al resto della programmazione di Crystal Radio che insomma è tanto e tanta e tanta buona musica soprattutto quindi andiamo con un po' di musica ancora con Nina Zilli e poi torniamo qui ancora con i nostri ospiti fino alle 9 in diretta con Good Morning Milano Crystal Radio Milano Imagine Dragons con Shark questa era la canzone appena ascoltata che ci fa entrare nella seconda mezz'ora di trasmissione in cui appunto vi raccontiamo un po' anche altre notizie che stiamo andando a leggere sui vari giornali e tra cui ad esempio un discorso sugli affitti a Milano ebbene si affitti a Milano alle stelle ma quanto si risparmia facendo i pendolari da una città vicina questa è la domanda che si pone nel Corriere della Sera a Milano prezzi a confronto nel capoluogo Lombardo la media è di 23,30 euro al metro quadro al mese scegliendo un capoluogo di provincia ben collegato si scende parecchio dal 35 al 60% e c'è tutta una lista di dove si può andare appunto a spendere meno facendo un po' i pendolari dalle altre città questo è un po' quello che ci viene raccontato appunto da Repubblica Milano che vede un po' di lista diciamo di tutto quello che si può fare andando a vivere scusate nelle varie città vicine un po' ci dice un po' come poter andare a risparmiare diciamo un po' di quello che appunto vogliamo andando a vivere fuori scusate mi sono un attimo perso nella lettatura perché sto leggendo è pieno di numeri quindi vi conviene andare andare a leggere ad esempio a Lodi si può risparmiare il 57% rispetto a Milano pensate 57% non è male non è male per niente il 57% di risparmio questo è quello che si può andare a risparmiare appunto se andate a vivere a Lodi invece che a Milano può essere una buona alternativa no che dite può essere una buona una buona idea vabbè comunque facciamo una cosa adesso andiamo con un po' di musica perché poi al telefono ho un ospite che adesso vi racconto subito chi sarà perché il fuori salone è uscito da città anche lui non solo per risparmiare ma è andato fuori e voglio parlarne con il prossimo ospite che abbiamo al telefono fra poco Guaranà con Lodi alle 8 e 38 minuti Guaranà che credo sia un vitalizzante un energizzante che sicuramente avrà bisogno il nostro ospite che in questa settimana sta girando ovunque ma neanche più solo a Milano giusto Andrea Kerchi? giusto ciao a tutti grazie grazie di invitarmi sempre di coinvolgermi sempre buongiorno a tutti sì di Guaranà io ne ho bisogno ma diciamo che ho già un'adrenalina mia personale una buona scorta è arrivato a 55 anni ne ho ancora va ancora bene speriamo speriamo che continui così sì fuori salone la città è impazzita per il fuori salone come giusto che sia a tanti può anche non piacere però di solito comunemente molto apprezzato molto piace molto molto colorato molto bello non ti chiedo se ti piace no no tanto lo sanno tutti che non lo sopporto quindi lo sa chiunque ci segue sa la grande avversità allora mi hanno dato tanti gadget a tanto cosa la settimana prossima vengo lì te li metto tutti lì se si mangia potrei quasi quasi pensarci al cuore salone non ci sono cose che mangiare allora no non mi interessa solo che erano rimasti a girare città a girare in città a Milano e va bene e invece scopriamo anche la Corriere TV che appunto ha pubblicato il tuo video che anche fuori Milano ormai bisogna andare allora Alcova Alcova che è questa organizzazione privata che gestisce buona parte delle organizzazioni del fuori salone è un'istituzione di solito cerca dei posti abbandonati sperduti o che comunque comunemente non vengono visitati o non sono aperti al pubblico due anni fa aveva fatto l'ospedale militare di Baggio quindi tante persone erano riuscite a rivedere dove avevano fatto la visita i tre giorni i tre giorni del car e con la stessa fila la stessa cosa e quant'altro di quella tre giorni e con le stesse emozioni diverse le emozioni delle emozioni della visita militare non erano proprio ottime ho fatto in tempo a farla anch'io penso ho fatto in tempo a farla anch'io vede vede ma poi l'hai fatto il militare ovviamente no ovviamente no vedi vedi a me è capitante lo so lo so ogni volta girano foto di te militare ero magro quando sono tornato adesso farò ridere tutti ma ero veramente ero sotto peso di un chilo però posso dire che in vita mia mi sia capitato l'unico momento in cui ero sotto peso di un chilo sì sì ma è durata poco allora ascoltami Baredo Baredo Villa Bagatti Valselchi Villa e l'altra Villa Villa Barone allora sono veramente delle trovate incredibili soprattutto per quanto riguarda Villa Bagatti Valsecchi se andate non c'è tanta coda perché è uno spazio molto aperto quindi c'è un grande giardino c'è un ingresso grandissimo quindi trovate poca coda è ben gestito entrate nella villa finalmente potete vederla perché chi è di Baredo di solito la vede da fuori vedete la villa con dentro delle installazioni che non sono neanche tanto invasive perché a volte sai tu vai a vedere un posto è qui che ti vuoi vedere bravo tu vai a vedere un posto io di solito vado in tante installazioni del fuori salone vado perché magari mi mancano le fotografie di quel posto poi arrivi magari c'è un totem di 4 metri che copre tutto qui no invece qui non è stato fatto non è stato fatto le installazioni sono comunque a misura d'uomo rispetto a quella casa lì quindi riesci a vederla poi soprattutto un'altra bella cosa quando vai in queste ville le finestre magari non sono aperte non puoi accedere ai balconi qui invece puoi fare molte cose puoi anche uscire sul balcone e vedere poi quando sono andato io la giornata era bella ma credo che fino a domenica Villa Bagatti Valsecchi a Varedo Villa Bagatti Valsecchi esatto ma invece dimmi un po' tutte quelle installazioni invece che vediamo a Milano cioè sono solo io che quando le guardo non capisco assolutamente niente di quello che sto vedendo oppure allora l'arte l'arte vabbè il detto per tutti è prendi l'arte e metti la parte sì ma qui già chiamare l'arte è un complimento allora ascolta l'arte moderna purtroppo ha una sai noi non siamo vissuti in epoche diverse non abbiamo potuto vedere quali erano le reazioni nel 1800 alle nuove realizzazioni artistiche rispetto a quelle precedenti ma c'è sempre stata grande polemica in tutto perché comunque quando poi c'è stato il futurismo il manierismo la gente impazziva ma in senso negativo dice avete rovinato l'arte secoli e secoli per costruire dell'arte positiva adesso voi la rovinate e così io ti lascio con un mio pensiero io non sono preparato nel senso che bisognerebbe essere degli esperti dei critici d'arte per per poter giudicare sono sicuramente cose molto particolari molto strane alcune di loro sono molto colorate quindi sono appariscenti altre sono veramente incomprensibili quello che penso io è che al fuorissalone ci siano troppe cose ovvero ci siano almeno un qualcosa come 10.000 piccole installazioni o piccoli momenti che tu dici ma che cos'è sta cosa ah quindi sei d'accordo con me che ci sia troppa roba però no troppa roba sì troppa roba non riesci neanche a visitarla perché comunque allora prendi uno come me che lo fa di messiere che è un perdi giorno incallito cioè io posso veramente vedere quasi tutto però ci sono persone normali che lo possono fare soltanto durante il fine settimana tieni presente che noi come giornalisti tra i quali ci sei anche tu possiamo anche avere il privilegio di saltare la coda in alcune installazioni purtroppo ti parlo quella bellissima di Palazzo Lita parlo anche di altre installazioni fai magari un'ora di coda prima di entrare e quindi puoi vedere 3-4 cose io ti dico quella che consiglierei io consiglio a tutti di vedere delle cose che possano anche raccontare la storia di Milano per esempio in via Giacosa al parco Trotter hanno aperto la vecchia casa dell'acqua l'installazione dentro è molto particolare molto strana però entri in un edificio che magari non hai mai visto che hai sempre visto da fuori ecco io consiglio di fare di fare così e di scegliere magari anche delle cose di nicchia perché se tu ovviamente scegli Palazzolitta lo sai che devi fare questo sabato questa domenica ti farai anche due ore di coda è normale come il padiglione come il padiglione del Giappone a Expo per intenderci esatto l'hai saltata la fila lì tu io sì tu l'hai saltata io ce l'ho fatta da giornalista ce l'ho fatta è il mio vanto nel senso che essendo la mia professione giornalista e fotografo ti fanno saltare la fila ma è normale sai perché perché comunque io nella mia agenda di lavori che devo consegnare devo fare ci sono almeno 100 cose e se io non riuscissi a saltare la fila non ce la faccio non ce la puoi fare poi lo so mi vergogno un po' guarda è bellissimo quando tu passi davanti a tutti quindi fai tutta la fila di quasi un chilometro passi davanti a tutti le persone che sono in fila come ti guardano e come ti odiano fanno bene fanno bene Andrea Kerch a non volerti bene in quel momento poi però gli fai le tue due moine i tuoi video su Instagram e quali ti vogliono bene comunque pensa te come li freghi tutti infatti pensa te come li freghi tutti va bene stamattina dove vai di bello allora stamattina c'è la festa della polizia alle 11 al al piccolo teatro di Strayler quindi quello e poi altri giri del fuorisalone stamattina adesso vado in via Senato faccio quella parte di Corso Venezia che mi manca quindi comunque sempre qualche gadget se ti avanza portalo qua se te li porto tu che ami il fuori a dirò no ma io di solito faccio così ne prendo due uno per me lo prendo anche per il collega giornalista quando dici me ne da due uno per l'anfi grazie sai dove ti lascio con questo sai io mi sono andato in un posto sono entrato a casa non ce l'avevo assegnato te lo faccio io ho visto fuori dei piumini delle trapunte a De Poole in Corso Magento una traversa di Corso Magento sono entrato entravi dentro c'erano materassi trapunte cuscini mi è venuto un sonno però era bello una bella installazione ad un certo punto la signora mi ha detto ma lei è giornalista sì allora si registrica le lascio l'omaggio un cuscino un cuscino un cuscino vado allora con il suo Magento De Poole adesso vado subito vai 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 ho bisogno per il divano nuovo quindi benissimo grazie entri tu e Erika Erika entra perché io ho potuto prendere un solo cuscino me ne servivano due va bene va bene allora andiamo io Erika benissimo va bene dai grazie Andrea buona giornata e buon lavoro buona giornata a tutti voi ciao 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 grazie mille ad Andrea Kerchi che appunto adesso è in giro per il fuorisalone come abbiamo visto non solo Milano al fuorisalone ma anche Varedo anche la città metropolitana insomma si sta allargando tra parentesi Varedo comunque nella zona nord della città che è famosa per il mobile lì sono quella zona lì insomma famosa per il mobile quindi perché no appunto allargare forse in realtà c'è sempre stato il salone del mobile arriva un po' da lì ma insomma anche il fuorisalone vada a scoprire nuove zone della città andiamo avanti con la musica loro sono Cool and the Gang Celebration Fedez Annalisa articolo 31 ebbene sì non ho mai capito poi se alza il finestrino che suoniamo battisti o che stoniamo battisti beh in caso se volete stonarlo sicuramente io sono pronto a farlo e ci mancherebbe anzi so che sta girando un video di io che canto battisti 8 e 56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre qui in diretta su Crystal Radio dopo di noi Senti Questa con Ambrogio Curti anzi dobbiamo andare a chiudere velocemente perché siamo in ritardo fotonico e quindi dopo il giornale radio Ambrogio Curti con Senti Questa noi invece ci sentiamo domani sempre qui dalle 7 alle 9 in diretta con una puntata di Good Morning Milano sempre su Crystal Radio Milano grazie mille a tutti grazie a domani buona giornata ciao